signori ben ritrovati in questo nuovo video mi raccomando tenete d'occhio la community di youtube o i vari social che troverete qui sotto in descrizione perché nei prossimi giorni nuovi progetti all'interno di questo canale partendo in ordine cronologico con un nuovo video dedicato alle carriere che consiglio su fifa ed fm è già uscito il video del notican forest è già uscito il video di granada uscirà presto un nuovo video una nuova carriera una nuova squadra ed una nuova collaborazione inoltre sempre nella community per chi è attento per chi la consulta ogni giorno avrà notato anche un'immagine quella di pepe guardiola e pochi indizi ma l'immagine è molto importante un indizio davvero molto grosso perché presto un nuovo progetto appunto che porterò all'interno di fifa all'interno proprio di questo canale e sarà una nuova serie sperando appunto che possa essere di vostro interesse genoa genoa ab rosa ma prima ancora di parlare della brosa voglio congratularmi con il gruppo seven 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 partners perché hanno da poco pochi minuti da poche ore ufficializzato l'acquisto praticamente o il legame con una nuova società ad inizio di questa carriera abbiamo parlato del vasco da gamma abbiamo parlato del dello stella rossa francese il red star fc abbiamo parlato anche dello standard liege una squadra in belgio beh insomma il roster di squadre di seven 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 partners aumenta con un legame legato all'australia nello specifico melbourne victory fc e questo per noi che siamo qua su fifa è molto interessante perché loro sicuramente ci sono sappiamo che il campionato australiano australiano fa parte comunque di campionati disponibili all'interno di questo videogioco o dovrebbe perché fino all'anno scorso c'era e beh insomma noi sicuramente sfrutteremo questa nuova affiliazione perché dalla prossima stagione quando saremo un attimino più liberi dal punto di vista poi dell'acquisizione eh dei giocatori extra e possiamo sicuramente muoverci con più leggerezza con più tranquillità grazie intanto dei consigli perché è ufficiale non prenderò il fenomeno della primavera perché effettivamente mi avete eh fatto ricordare che quel giocatore è disponibile solo per chi eh compra una determinata versione di fifa e diciamo un regalo da parte di iei noi i regali così non ci piacciono fosse stato un giocatore che abbiamo diciamo scoperto noi allora sarebbe stato un altro discorso però pare che siamo qualcosa in più che effettivamente andrebbe a rovinare un po' il realismo però il signor Carmine Bruno dovrà chiamarsi così se non sbaglio quel centrocampista quella mezzala quella sorta di ala probabilmente lui lo aggiungeremo in questa rosa che è ancora piena di giocatori ragazzi qui abbiamo ancora le scorie quei problemi con la vecchia dirigenza e queste ce le trascineremo per tutta la stagione poi dalla prossima cercheremo di smaltire perché siamo veramente in tanti ragazzi però tanti ma buoni tanti ma buoni perché stanno crescendo Zibora già è cresciuto di overall a Martinez è anche cresciuto di due di overall non c'è un giocatore che è cresciuto di più perché vediamo dei più uno vediamo dei meno uno in quei giocatori che sono diciamo over 30 però la squadra c'è la squadra sta effettivamente migliorando sta effettivamente crescendo ci stiamo divertendo stanno iniziando anche ad arrivare i risultati oggi termine dell'episodio però dobbiamo riscattare almeno due o tre giocatori allora io vi dico chi riscatterò sicuramente sarà Martinez e Puskas ti voglio assolutamente tenere Strootman probabilmente altro giocatore che riscatterò nonostante l'età ma stiamo parlando di un leader che non è ancora un overall abbassato è rimasto 73 avrebbe poco senso secondo me non approfittarne cioè è un giocatore ragazzi che è fuori categoria secondo me un giocatore che potrebbe stare benissimo in una grande squadra di A peccato appunto per la sua storia legata agli infortuni su Aramo un grosso punto di domanda Aramo non ci sta convincendo non ha fatto praticamente nulla di conseguenza per ora non ho motivo di regalare soldi a Venezia sono d'accordo con chi sostiene che è un po' brutto il fatto che lo stadio sia sempre stracolmo ci sia sempre una coreografia anche su questo aspetto FIFA dovrebbe secondo me un attimino migliorare sono piccolezze sono piccole cose però davvero ogni partita sembra tipo una finale o l'ultimo di campionato una partita decisiva questo naturalmente non vuole essere un'offesa contro la tifosiera del Genoa perché è un qualcosa che vediamo ovunque in qualsiasi piazza anche in quelle piazze in quegli stadi dove magari ci sono veramente pochi tifosi Genoa 4-4-2 Rombo con una difesa rivoluzionata Ezekven, Dragosin, Ovian e il signor Jellert poi abbiamo Badel sulla mediana e i due mezzali porta Nova Frendrup là davanti il 10 non gioca Gudmonson fastidio muscolare che lo terrà fuori in occasione di questa partita Yeboa Puska, sì, reparto offensivo ma andiamo sul sul Tirol squadra neopromossa squadra che ha un centrocampista che è uno dei miei pupilli di sempre sto parlando del 23 dovrebbe essere, sì, il 23 dovrebbe essere no, vediamo un attimo Dorazio Baris o Masiello Decollo, ok però adesso andiamo sul centrocampo, esattamente il 23 Marco Pompetti che tra l'altro non gli hanno fatto il facecam ma è davvero molto molto simile alla realtà Marco Pompetti ex Primavera Inter quando seguivo parecchio la Primavera Inter di quegli anni ero innamorato calcisticamente del signor appunto Marco Pompetti, regista arretrato diciamo un pensatore che si sta godendo questa esperienza in B col sul Tirol anche se da quel che vedo non mi sembra diciamo un titolarissimo comunque inizia una partita che dobbiamo vincere per continuare a far bene ci siamo lasciati con diverse vittorie, con diversi risultati convincenti abbiamo diciamo più o meno capito cosa dobbiamo fare per dare fastidio agli avversari e quindi partire subito molto aggressivi e effettuare tante tante occasioni verso la porta avversaria Jeller, Tiltacco, Mazzocchi, tiro deviato dal buon Ovian l'ultima volta che abbiamo fatto un turnover così pesante là dietro non abbiamo mai vinto cioè credo che quando facciamo un turnover così esagerato nella difesa non è mai arrivato un risultato positivo intanto eccolo lo Scandinavo che si conquista il primo corner Yeboah, c'è Puskas che chiama palla lo andiamo a servire sulla sinistra Yeboah quindi può ritornare ecco Puskas, ecco soprattutto Aramu con Iacobucci che salva Mazzocchi, Dragosin ragazzi ma quanto sta migliorando Dragosin diventando sempre più leader del parto difensivo rosso-blu poi Yeboah nello spazio per nessuno Kurtanova può pensare alla conclusione tiro facile per Iacobucci diamo lo strapotere fisico da parte di Kelvin Yeboah Puskas Portanova intanto l'inserimento perfetto il sinistro poi un po' meno Ezek Vem non chiude Ovian male e c'è anche un intervento non perfetto da parte di Martinez è un pasticcio della difesa rosso-blu e il vantaggio sul Tirol un po' inaspettato ma qua davvero Ezek Vem a vuoto nell'intervento in scivolata il controllo di Ovian non perfetto e poi anche la parata sul tiro centrale da parte di Casiraghi e arriva appunto il vantaggio del suo Tirol abbiamo notato quest'anno è stato un punto di forza dei trailer di FIFA come appunto su certe situazioni sulla respinta in questo caso di Ovian come la fisica adesso si è gestita un po' in maniera diversa cioè se ti arriva un cross teso e interviene in un certo modo il tuo intervento può costar caro e Ovian sicuramente lo sa ma lo sa anche Frendrup ricchi e morti Frendrup 1-1 Genua tra poco signori diventerà tutti gli effetti CC ma nel frattempo ce lo godiamo perché comunque quell'inserimento forzato ad inizio carriera continua comunque a funzionare e qui anche nel duello aereo da dietro furbo il buon Morten Frendrup reggio immediato in una partita che poteva diventare veramente complicata qualora il Genua avesse diciamo così tardato nella realizzazione del gol Portanova tiene palla poi va da Badel chiama palla Frendrup si può allargare la zona di Jellert che tenta il cross dall'altra parte Aramu buono anche il controllo di Aramu anche la conclusione non era male bravo Ieboa fallo di Masiello peraltro l'ex di questa partita Ziborra di nuovo Puskas ha cercato il tiro di prima niente da fare adesso il Genua ha un attimino più di difficoltà a rendersi pericoloso Dorazio però ultima occasione palla in mezzo crociata sbaglia tutto attenzione perché questo è un contropiede regalato al Genua anche se la difesa comunque lì è schierata Ieboa quindi deve in qualche modo aspettare poi alla fine si va a direzione Portanova anzi Aramu poi Ziborra gran velocità però vediamo insomma diversi nostri giocatori che sono marcati poi Aramu in mezzo Puskas peccato può finire qui può finire qui purtroppo pareggio al Ferraris 1-1 contro il Sud Tirol non perdiamo è una serie di partite che non perdiamo però questo sicuramente è un passo indietro un piccolo ma non grave diciamo come passo indietro però di sicuro solo un punticino contro questa squadra in casa diciamo che sono più due punti persi la classifica di B e io non volevo guardarla perché secondo me è grossa fonte di distrazione ci aggiunge un'ulteriore pressione ho intravisto un mi sembra il meno 10 punti al primo posto meno 6 dal secondo che è decisamente più fattibile più percorribile la strada che ci può portare al secondo posto ma per farlo servono i tre punti su un campo il San Nicola di Bari molto difficile molto complicato una squadra che porta con sé tantissimo entusiasmo probabilmente una delle sorprese di questa serie B nella realtà probabilmente anche una squadra che all'interno qui di FIFA porta con sé tanta tanta qualità tanta voglia di vincere e di far bene e lo stadio tutto pieno stracolmo dalle grandi occasioni è la dimostrazione del fatto che veramente c'è tanta voglia di A c'è tanta voglia di far bene per questo Bari che si presenta col 4-3-1-2 modulo abbastanza simile al nostro e beh ragazzi il reparto offensivo quello che ci spaventa ci spaventa anche Ruben Botta l'ex nerazzurro ci spaventa tantissimo Folo Runcio uno dei migliori giocatori della serie B e poi Galano che dira anche lo stesso appunto che dira grande elemento interessante di questo campionato il Genoa risponde con i titolarissimi praticamente direi di non commentare di andare in campo perché alla fine è il Genoa che avete e stiamo imparando così a conoscere quindi quello di Puskas di Yeboah di Gudmanson di Frendrup di Portanova di Badel e poi della difesa 4 formata da FT Ziborra Bani e il buon Dragosin con in porta l'immancabile Josef Martinez subito Grifone subito Yeboah tiro deviato attenzione perché il pallone è buono per Puskas il palo clamoroso incredibile che inizio e allora ancora Frendrup Puskas anzi Yeboah salva Caprile poi il corner Gudmanson già 3 4 occasionissime per il Grifone che dire intanto che controllo ragazzi mamma Martinez ma che controllo di che dira spettacolare che dira c'è Galano dentro l'area di rigore che dira serve a rimorchio attenzione il pallone che rimane in una zona pericolosissima Dragosin poi teso Fuloruncio chiude tutto Martinez il Bari però sta reagendo dopo un inizio di grossissime difficoltà dopo un inizio di solo Grifone in campo Puskas FT bravo Puskas che rimane comunque in una zona molto interessante che partita ragazzi forse una delle migliori però attenzione perché c'è un fastidio muscolare per Yeboah esce subito perché non vogliamo rischiare che possa peggiorare l'infortunio dentro Kalebekouban primo colpo di scena al minuto 32 e allora proprio Kalebekouban che cerca di essere pericoloso questa palla inattiva anche se siamo 0-0 probabilmente a livello di spettacolo stiamo assistendo alla miglior partita della stagione quella più spettacolare quella dove continuiamo a vedere delle azioni vedremo se tutte e due le squadre manterranno poi lo stesso ritmo che hanno avuto nel primo tempo perché veramente si è giocato dei ritmi altissimi mazzotta cross arriva Dragosin poi Yekouban bravissimo qui sponda di prima per Puskas e il giorno riparte FT lo ferma grande esperienza di FT qui in questo caso gran lavoro che poi inizia anche ad essere stanco chiama palla in anticipo Yekouban che io continuo a dire Yeboah attenzione perché c'è Puskas sul suo solo che alla fine si è liberato molto bene Kalebekouban non riesce a superare di Cesare poi Puccino Ezek Vem errore non può sbagliare non sbaglia Puskas e addirittura così se la rischia se la rischia con una giudanza che poteva costare della carriera ma super George Purskas ma bravissimo Ezek Vem perché ha capito la dormita da parte della difesa del Bari e poi Yekouban prende palla Puskas non si fida di calciare di prima preferisce controllare la giusto il necessario per non poter davvero sbagliare ed è 1-0 vantaggio Genoa Salcedo non ci posso credere bravo FT mamma ragazzi la nostra difesa però stiamo iniziando anche adesso ad avere difficoltà su certi cross stesi dove il controllo da parte di difesa non è spettacolare e già parecchie volte che lo vediamo partecipare praticamente al gol ci mette il suo FT Cuskas e Kuban chiude Caprile Galano difesa del Genoa qui che deve stare attenta mamma Foloruncio proprio all'ultimo il Bari Salcedo salva Martinez ma si continua a giocare perché non la spazza perché non la spazza allora attenzione al Bari ancora Martinez e poi finisce qui per la nostra fortuna anche perché davvero erano quasi 10 minuti di recupero vince quindi il Genoa sul campo del Bari una vittoria sofferta una bella partita probabilmente ci aspettavamo di vedere molti più gol invece abbiamo visto solamente uno per fortuna dalla parte del Grifone è la partita più sentita e ce lo mostra anche la regia entrando nello spogliato del Ferraris dove vediamo abbiamo già uno spoiler di quella che sarà poi la formazione titolare perché c'è un cambio intanto vediamo anche i giocatori del Parma che controllano un po' il campo il terreno di gioco che sicuramente non sarà in perfette condizioni vediamo anche il talento puro Bernabè c'è anche Vasquez insomma futuri protagonisti di un match molto sentito del match probabilmente più atteso il match probabilmente più importante tra le due società più importanti della Serie B almeno per quanto riguarda la storia ma anche i protagonisti basti pensare appunto il portiere del Parma Buffon titolare in questa partita gran tifoso del Genoa ma sarà poco tifoso invece nel corso di questo match perché dovrà cercare di salvare il Parma un Parma che sta facendo benissimo un Genoa invece all'inseguimento di questo Parma straordinario e per farlo ci affidiamo all'esperienza anche se in realtà a proposito di esperienza c'è stata una pesante bocciatura quella di Strootman che partirà dalla panchina ma di sicuro lo andrà a coinvolgere nel corso del match sul Parma ragazzi ci sono tante cose da dire hanno un reparto offensivo pazzesco ora non so se sarà Tutino se sarà Bobby English Roberto Inglese ma Basquez l'abbiamo visto c'è Mijla c'è Dennis Mann c'è anche Bernabé in mezzo al campo questa squadra ha le capacità per poter segnare praticamente quasi con chiunque anche il Genoa più o meno appunto c'è quel più o meno che però ci fa un po' dubitare delle qualità di certi giocatori aspettiamoci una partita molto difficile ma stiamo per assistere alla partita ripeto più sentita della stagione quella contro il Parma Bernabé provo adesso a mettere ordine il Parma del Prato Basquez Bani qui non perfetto volevamo ripartire da dietro invece c'è la distruzione da dietro no Tutino l'abbiamo lasciato l'abbiamo lasciato spazio gli abbiamo lasciato spazio gli abbiamo lasciato spazio col di Tutino col Parma pazzesco capisci subito l'errone un'autostrada gli ho lasciato mi sono spostato praticamente dall'altra zona di campo non so perché ragazzi probabilmente perché pensavo di non controllare lui ma pensavo invece di controllare Bani per questo sono andato sulla sinistra perché non pensavo di avere il controllo invece ancora su Dragosin ci prova Coda parte Coda probabilmente troppo forte direttamente in porta Buffon non era male l'idea non era male l'idea probabilmente potevamo metterci un attimino più di potenza o poteva essere un attimino più angolato ma grandissima occasione questa per il Grifone intanto Yeboah ancora Buffon attacca adesso il Parma Miaila mamma ragazzi Martinez deve ringraziare non so cosa probabilmente una zolla presente all'interno della sua area di rigore bravo Goodmanson che ci mette la giusta cattiveria se il Parma dorme il Genna deve essere invece pronto a reagire guardate qui perché hanno veramente delle grossissime difficoltà da dietro addirittura coinvolgere Buffon pressato attenzione perché stava anche Buffon per sbagliare rischiando veramente tanto il Parma quello che poi quando ne esce risultano essere veramente micidiali e qui addirittura la nostra difesa a farfalle a vuoto ancora in un'occasione la doppietta di Tutino cioè pensate questi hanno rischiato di subire gol con un'impostazione al basso veramente molto rischiosa e poi qua invece vediamo poi la nostra difesa totalmente fuori posizione con un Tutino che la deve solamente piazzare lo fa mettendoci anche potenza Yeboah Portanova la controlla vabbè ragazzi alziamo bandiera bianca Buffon ancora di un altro pianeta sembra il Buffon dei tempi d'oro inglese Bani lo ferma però guardate guardate c'era una marcatura uomo sui Kuban non so se ci avete fatto caso è un Parma veramente adesso che sembra essere impenetrabile perché quando fanno due gol poi veramente difficile poi trovare gli spazi vedete appunto un Genoa in grossissime enorme difficoltà prova ad andare da solo vede Gudmonson c'è il tutto solo Yeboah che non ha lo spazio per girarsi poi va a servire Gudmonson che prova a calciarla ma mettendoci troppo a poca forza FT inglese Juric inglese Juric Vaskets sono tre disfatta al Ferraris e qui tutte responsabilità della difesa decisamente tutte 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 e mi assumo però tutte queste responsabilità perché è veramente una sconfitta questa che proprio non ci voleva ma avevamo già capito come andava come sarebbe andata la partita dopo il 2-0 diciamo che si sono praticamente spente le speranze per vedere la rimonta Genoa FT calcio d'angolo vediamo insomma questi ultimi secondi magari riusciamo a trovare il gol della bandiera Yeboah però Buffon come ho detto di un altro pianeta Genoa 0 Parma 3 ancora non siamo al loro livello inutile inutile girarci troppo intorno diciamo però la rabbia qual è la rabbia è che sono stati tre gol veramente brutti il Parma sicuramente ha meritato ma sono stati probabilmente tre regali salviamo la faccia battendo la Ternana per 3-1 con assegno Aramu Yeboah e Puskas reparto offensivo che finalmente ritrova il gol ritrova fiducia il Genoa che ritrova i tre punti in un episodio da due vittorie un pareggio una sconfitta situazione però in classifica e situazione anche in generale guardando in alto sulla sinistra non positiva assolutamente non positiva prossimo episodio l'apriremo con la Coppa Italia però prima salutiamoci guardando un attimino la classifica non appunto il tabellone della Coppa Italia ma la classifica di Serie B dove vediamo un Genoa ampiamente in zona playoff con 31 punti al sesto posto e con la prima posizione distante 6 punti la seconda 5 considerando però per ora che con gli sconti diretti il Parma diciamo dovremmo far meglio migliorare quel 3-0 poi ritorno al Tardini non sarà facile allora la situazione comunque non è tragica cioè io pensavo fossero molti più punti di stacco sta di fatto che davvero questo è stato un episodio dove non lo considero positivo purtroppo nonostante due vittorie però non lo posso considerare positivo perché abbiamo perso veramente una partita molto importante abbiamo pareggiato una partita che avremmo dovuto vincere con estrema facilità io chiudo l'episodio però dicendo che cosa che dal prossimo inizieremo a trattare il riscatto di questi giocatori Martinez sì Puskas sì Aramu Strootman fatemelo sapere qui sotto nei commenti ci vediamo domani ore 13 nuovo episodio con il Genoa ciao a tutti ragazzi alla prossima